Questo programma è offerto da... Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e sono qui per la prima parte dello speciale di Natale su Team Fortress 2. Inizieremo con le mappe di Natale in evidenza, quindi quelle nuove, quelle dell'ultimo Mismas, dell'update di Mismas. E vediamo un po', vediamo un po' adesso cosa ci riservo al futuro perché non le ho mai giocate ed in realtà è la prima volta dopo tanto tempo che apro Team Fortress. È la prima volta che apro Team Fortress dopo tanto tempo, da Halloween praticamente, perché sto giocando ad altre cose e porca troia cos'è quello? Perché dobbiamo combattere in una mappa di Natale con un pezzo di pane gigante? Una mappa della comunità creata da carrello. Ah, cioè quindi c'è chi difende il pane impazzito e chi spinge il carrello? Carino. Sì, perché in realtà il pezzo di pane demoniaco è derivante dalla storia di Team Fortress perché una volta pensavano che il teletrasporto dell'ingegnere generasse tumori ma in realtà non era così, cioè... In realtà semplicemente solo il pane si prendeva questa sorta di parassita che... Porca troia. Questa sorta di parassita di... manifestazione la chiamava in un certo modo spy around, spy around the spawn Eevee spy, probabilmente Quindi appunto se si trasportava il pane, insomma, si veniva a... a manifestare questa... Questa metastasi all'interno del pane che a lungo andare trasformava il pane, appunto, in questa bestia carnivora Io comunque sto facendo schifo perché c'è questa spia che... esce... esce stab, esce stab, puttana di quella troia Sfarsi una cazzo di vita, mai Eh sì, ciao Dai, dai, ti curo io, ti curo io, ti curo io Cerco di coprirsi Careful, careful for spy, careful I'm on Eevee Occhio Stay back, Eevee, stay back Eh, niente Non mi da ascolto I need help I'm ready to charge I wait for you, Eevee I'm ready to charge I wait for you Ok Cazzo Non devo morire, però Che troia! Ma dov'è Eevee? Go Eevee, go, go I'm with you Go forward, I'm ready to charge I'm ready to charge I'm ready to charge Shoot them, shoot! Grande, grande, grande Grande, grande così Good cooperation, Eevee, good cooperation Go back now Go back now Beh, dai, ha fatto un buon lavoro Careful on card Go back now Go back now Go back now Eh, io sto un po' indietro, ragazzi Sparalo, sparalo Sparalo, sparalo Vai, vai, ti copro, vai, ti copro, vai, ti copro, vai, ti copro Vai, 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 vai Vai che ti do Daaaah, cazzo Eh no, devo cambiare la Uber Devo cambiare la Uber Perché questa va bene Ma mi sa che adesso siamo più una stock Una stock Uber Guys, careful for scouts They are trying to push the cat Help! I have stock Uber now A me serve gente che adesso subisca danni Perché la stock Uber si carica meglio se Grazie Grazie Vieni qua, vieni qua Eh, vieni qua Eh, vieni qua Vieni qua Have we the heavy? Ok Vieni qua, vieni qua, vieni qua Vieni qua, vieni qua, vieni qua, che mi dai una mano con la stock Vieni qua Vieni qua, vieni qua, vieni qua, che mi dai una mano con la stock Almost ready with the charge Porco Vieni qua Questo sta lagando come lo scrivio medic and demonite behind guys close the spawn i need someone here soldier please come come on to spawn soldier close the cart come here no 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 non ci credo cosa ha fatto sto figlio di puttana cosa ha fatto sto figlio di puttana mi ha intercettato in volo mi ha buttato nella cazzo di panino di merda va a fa un culo ma che culo di merda che so stronzo non andare in scusate ragazzo sono appena spavolato grande ok vai 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 che ti curo come cazzo è possibile soldier at right ma che fa questo medico è scemo che cazzo fa ivy i'm coming wait for me vai 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 grande no ma poi io non mi fido zio ivy where are you going ma che cazzo fa no ma dai ma che cristo no ma porca puttana perderla così no davu why you left me i was healing you cioè ti stavo curando perché ma non lo stavano spisciando non lo stavano pushando non c'era il microfono comunque mi faccio si mi metto questo dai io sempre negli speciali ma in tutto ciò no che figo che bella sta cosa mi metto ciò ready with the crits i have the crits click i'm i'm with soldiers now bello bello go russian men bello what no 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 mort tu no Grazie. Abbiamo una scelta arrivata. Mad need to be healed. Wait a second. Ok, I'm ready. Questa cassa! Questa cassa! Come close to me, please, when you need help. Wait, I'm coming! I'm coming! I'm coming! In realtà come... Ah, mappa di Natale è un po' strana, perché non c'entra un cazzo col Natale, però vabbè, è figa. Oggettivamente parlando la mappa è figa. Cioè, mi piace sinceramente parlando. Ah, da Successful Procedure. No, abbiamo fatto un bel casino. Ti curo, ti curo, vai. I'm close to the cart. I'm close to cart. Mad is close to cart, pushing. Ready to charge, almost. I'm close to the cart. Ti ho fatto un casino. Carica completamente sprecata, porco! Devo stare attaccato al carrello. No, il critico cazzo gli è scappato ed è cascata l'altro, è scappato solo su di me perché sono morto solo io. Orco mondo, stanno sparando come dannati, aspetta siete troppi, non riesco a curarvi tutti, orco, spy, spy behind, close the spawn. Ho il critico cazzo, ho il critico cazzo, ho il critico cazzo. Orco puttana. That ringer's fine around, guys, careful. Stop pushing the cart! Ben, out, now! Ben, in the car! Ben, in the car! We must try to push, guys. Someone... Everyone push! Everyone push! Everyone push! Everyone push! They're all dying! They're all dying! You have the spy closed! Heavy! Be careful! We have all closed then! Push now! I'm gonna push now! Push! Push! Push up, pushy, push up! Push up, pushy, push up, push! Push! We have fully charged! Ready to charge Go soldier, russian soldier, go Thanks Eevee Hit my sandwich Let's just pretend to push, they're all dying, come on let's get in They're all dying, let's get in, let's get in Look Ready to charge Some soldier With the kitzkrieg You can creeps me bro, don't worry I'll fuck them I'll be a one man killing machine on this fucking car, I need your creeps They are above us, Eevee Left side You're fine Who stopped pushing the cat? Tell me what's happened That's good pushing, go go! Oh Dai, sta andando bene sta partita 18 minuti tra l'altro Giusto, giusto per un video Proprio preciso preciso Andiamo Sì ma c'è qualcuno che deve pusharlo il carrello, sennò che famo Some help pushing Careful for spies Careful for spies They're all dead, they're all dead They've got 4 players alive, let's go Let's go, let's go, I'm behind you, go go On the cloud Easy, easy, easy Easy, easy On, and, and, and Nice Okay Grandi Oh, top Be, odio, abbiamo perso l'andata ma abbiamo vinto il ritorno Tra l'altro persa ad un minuto eh Cioè, proprio Era vicina vicino la vittoria Comunque Buona, questa era una bella mappa, questa oggettivamente mi è piaciuta come mappa, c'è poco da dire Allora adesso dal momento che è andata così bene però io uscirei e andrei un attimino qui a forgiare Perché in realtà mi è arrivata un po' di roba doppia e quindi adesso credo che sia il momento di fondere un po' di roba In particolare, in particolare, c'era di doppio cosa? Quello e questo se non erro, quindi forgia, ok, poi fammi vedere lo zaino, per classe Allora, ho due carabine dello spazzino ma non ho nient'altro di doppio per il cecchino Ho due colpi diretti ma nessun'altra arma doppia per il soldier Ho due amputatore ma nient'altro di doppio Due Tommy's Love Che palle, odio quando succede questo, che hai le armi doppie delle unità ma non hai le armi, proprio due armi doppie per la stessa unità Comunque Porci, termino qua l'episodio, spero che il video vi sia piaciuto Abbiamo vinto la prima partita del nostro Natale qui su Team Fortress 2 Tra due ore il secondo episodio dello speciale Natale qua su Team Fortress 2 Nel frattempo, like come è sceso e se non lo deve fare, link è per il video per il video se non lo vedete e vi iscrivetevi e noi ci vediamo Nel prossimo video, a presto, ciao!